vedete ragazzi c'è un tizio si chiama Patris Lumumba lui ha il logo dei vivi ragazzi dorme profondamente stamattina ho mandato un commento mi ha detto guarda è molto interessante questo canale qua mi fa vado a vedere le solite tartaria terra piatta tutte le solite minchiate no io ho scritto ho dato un'occhiata le solite minchiate stava interpretando una chiesa minchia c'era una cassa di stella 8 punto mica la dicevo cioè diceva era peggio stronzate tranne che insomma l'ottagono che c'è proprio ce l'avevi proprio in faccia la mica lo vedeva e dava le sue interpretazioni alla minchia proprio insomma ho visto altri video di sto tizio così al volo ho capito che era un clown totale e io ho scritto il mio a questo no ma è il Patrizio qua il Lumumba che non sappiamo che cazzo sappiamo solo che è un vivino di quelli che si nascondono e scrivono di corsa con le bombolette nei muri e scappano Marcello mi dice ma la verità Marcello esiste e poi mi fa tutto un pippone qua ma eh ma non puoi negare il fatto che il Buddha Zaraustra Mitra sono nati il 25 dicembre da una vergine beh che cazzo c'entra la religione cattolica è una loro invenzione e per questo ci hanno le stesse cose che si ripetono no infatti il loro compito è cancellare Dio no ovviamente hanno infiltrato il cristianesimo e l'hanno ovviamente creato lo stesso vomite che facevano prima con quest'altra religione no e così la gente piano piano si allontana no poi mi dice poi chiude qua e poi mi chiede anche esiste un posto dove non esiste il giudizio che cazzo voi a coglione esiste il bene e il male quindi esiste il giudizio poi se io gli ho scritto se ti aspetti la verità come qui in alto vedete vedete qua ragazzi mi dice la verità Marcello esiste ma ha scritto io gli ho risposto se ti aspetti la verità da me allora non hai capito niente devi usare la tua testa fai ricerca unisci puntini che Dio ti possa guidare io ho scritto lui mi risponde i puntini li unisco la verità da te ma hai chiesta perché pecora sono io pecora sei tu ho solo fatto domande aperte per capire le risposte e io ho scritto al mongoloide ma testa di cazzo questa scritta qua io ho messo tra 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 virgolette perché è una scritta sua e questa che è scritto sopra me lo sono inventato io ho scritto la verità esiste senti ma perché non rimani da the voice io ho scritto e vai a scrivere con la bomboletta invece di rompere i coglioni vediamo se insiste sto mongoloide i vivini ragazzi i morti grazie